Daniela Terreri dunque al cinema maestoso e anche Esernia a Lumière da giovedì certamente con quest'ultimo lavoro tutta un'altra vita sì è tutta un'altra vita questo film effettivamente una commedia divertentissima con Enrico Brignano, Ilaria Spada e Paola Minaccioni una commedia un po' all'antica quindi ci sono dei riferimenti assordi perché Enrico Brignano fa il tassinario io sono la sua amica che va a ballare con lui andiamo a fare le gare di ballo non vincemo mai niente poi lui alla fine vincerà ma non con me e fa ridere lui si ritrova catapultato a vivere la vita di un'altra persona perché lui fa il tassinario e accompagna all'aeroporto due ricchissimi che vanno in vacanza e dimenticano le chiavi quindi lui prova a raggiungerli non ci riesce poi si trova a passare davanti quella casa di nuovo e non resiste alla tentazione entra e si trova in un paradiso una villa mega galattica piscina vari piani addirittura nella villa c'è un sensore che ti segue delle luci quindi si accende la luce in base a dove vai a far ridere si mette i vestiti del proprietario di casa e stanno a pennello trova gli inviti per delle feste inizia ad andare nelle feste e come ci va nelle feste nella Lamborghini e quindi fa proprio un'altra vita conosce una ragazza meravigliosa l'area spada che gli faranno dei primi piani in alcuni punti che uno già quello dice ah però e il film fa ridere per far ridere perché poi lui si deve inventare 3000 scuse con la moglie mi mette in mezzo a me continuamente quindi insomma è una commedia da vedere se uno vuole passare una bella serata ridere proprio stare con gli amici ma poi soprattutto siamo in Molise per quello sto qua tele Molise con il mio amico Antonio proprio per dire c'è una molisana nel film che sono io e andatela a vedere così sostenete il cinema il film e anche me è giusto?